Ciao amici Mr. Gadget, benvenuti a tutti, si parte da qui per conoscere Zenfone 5. Per cominciare a conoscere Zenfone 5 devo partire da questa cartella che apro insieme a voi e che contiene tra l'altro una serie di, diciamo, card fotografiche. Sono diverse situazioni che ci spiegano in modo molto chiaro come funziona l'intelligenza artificiale. Poi vedremo esattamente in che modo il telefono riuscirà ad interagire con queste cartelle. Intanto vediamo quella che è la confezione, rimane il posizionamento di We Love Photo di Asus, questo è il telefono, lo Zenfone 5, che vedremo però solo successivamente. Lasciatemi adesso invece agire con la scatola e la confezione per mostrarvi intanto il cavo di ricarica con il connettore USB Type-C e poi ancora il caricabatterie che viene utilizzato non solo con il fast charging ma anche con la ricarica intelligente, poi ne parliamo, e le cuffie. Anche questo è un dettaglio importante, vabbè qui manca l'ultimo pezzettino, quello praticamente per adattarlo al padiglione auricolare, ma è importante dire che queste cuffie di Asus sono con standard DTX, quindi con una qualità audio superiore in linea con la dotazione del telefono che proprio è compatibile con lo standard DTX. Ma il telefono com'è? Vediamolo subito da vicino perché questo è un prodotto molto interessante con il suo display che occupa il 90% della superficie totale del telefono, una proporzione 19,9 con una diagonale da 6,2 pollici. Questo è un display IPS con un'ottima luminosità e soprattutto con un ottimo anche angolo, con un grandissimo angolo di visione. Vediamo da vicino anche come si comporta il telefono che vedete, ha una notch che è una via di mezzo tra quello di Huawei P20 e quello di iPhone X. Cornici veramente super ridotte nella parte inferiore, USB Type-C, uno dei due altoparlanti perché questo è stereo, è un telefono con riproduzione stereo e anche l'attacco per le cuffie da 3,5 mm. Nella parte posteriore il sensore delle pronte digitali, la fotocamera con ovviamente il flash e questa finitura molto particolare con un colore quasi cangiante nel momento in cui si muove il telefono. Ecco, a proposito dell'aspetto, perché questo è un dettaglio secondo me importante, voi dovete imparare a fare la pace con l'aspetto di questo telefono se volete apprezzarne le caratteristiche. Se non riuscirete a superare l'aspetto estetico sarà difficile andare oltre e riuscire a capirne le qualità. Qui vedete iPhone X, il nuovo Zenfone 5 e Huawei P20 Pro. Allora, devo dire che la similarità, la somiglianza è lì da vedere, no? Cambia il notch molto piccolo nel P20, più grande in iPhone X, una via di mezzo invece in Zenfone 5. Anche girando i telefoni, insomma, la similarità, la somiglianza dei prodotti è lì da vedere, insomma, non credo che ci siano dei dubbi sul fatto che siano molto simili. Allora, questi dunque i prodotti con, insomma, le caratteristiche tecniche che conosciamo. C'è un display che è quindi da 6,2 pollici, un IPS full HD, abbiamo detto proporzione 19 noni. All'interno c'è un processore, uno Snapdragon 636 con 4 giga di RAM. Come si comporta il telefono? Proviamo ad esempio a caricare una pagina di Corriere.it per darvi un'idea. Vedete, questa è la versione desktop del telefono. Andiamo a vedere, non è ancora caricata però del tutto la pagina, per vedere, insomma, essenzialmente come anche lo scrolling, il movimento, la ricostruzione delle immagini, vedete, comunque è molto veloce e molto attendibile. Anche la velocità del telefono in sé è discreta come reattività. L'interfaccia è carina, ecco, questo è un aspetto secondo me importante, perché ho sempre trovato l'interfaccia di Asus troppo carica di pasticci, troppo carica di bloatware, il cosiddetto bloatware, e invece vedete che in questo caso c'è un'interfaccia pressoché stock con pochi miglioramenti che poi andremo a vedere che trovo siano interessanti. Entriamo anche nel menu del telefono. Ad esempio, andiamo alla voce del display. Potete essenzialmente utilizzare, ad esempio, la barra di navigazione, vedete, con la personalizzazione dei pulsanti. Potete scegliere anche come utilizzare il pulsante delle app recenti. In questo caso, ad esempio, io ho settato che premendo a lungo, vedete, appare lo screenshot del telefono. Potete cambiare la dimensione del carattere, il tipo di fonte, attivare uno screensaver e gestire anche la modalità del telefono. Quindi, essenzialmente, controllare come il telefono gestisca la temperatura del colore. Devo dire che a proposito di temperatura colore, comunque questo è un display veramente gradevole. Poi avete una serie di funzionalità in più avanzate del telefono che vi permette di controllarlo in modo molto preciso, ad esempio, con le Twin Apps. Ecco, lo state vedendo in questo momento, le Twin Apps coinvolgono tutte le applicazioni di messaggistica o comunque con un account che io ho sul mio telefono. C'è poi la gestione delle Zenimoji. Si può attivare un pulsante fluttante che si attiva essenzialmente nelle applicazioni in cui le Zenimoji possono essere utilizzate, ad esempio, il Messenger di Facebook oppure Whatsapp. Ancora, vedete la modalità facile, la modalità bambini. Potete scegliere di avere la fotocamera istantanea premendo velocemente il tasto volume. Potete scegliere di usare il movimento sull'impronta digitale per scorrere nelle notifiche e poi, perché no, anche la gestione del movimento. Doppio tocco per accendere o per spegnere lo schermo. Avete la possibilità per rispondere alle chiamate avvicinando il telefono al vostro orecchio. E poi, come spesso accade nei telefoni asiatici, avete la possibilità di scrivere una lettera sul vostro display per attivare alcune funzioni, la fotocamera, l'orologio, il meteo, la fotocamera con la lente anteriore. Siete voi essenzialmente in questo modo a scegliere quello che volete per il vostro telefono. Quindi, un controllo molto avanzato di questo telefono, ma devo dire un'interfaccia che viene mantenuta abbastanza facile. Ora, una delle cose fondamentali è proprio la fotocamera. Fotocamera che ha diverse modalità di utilizzo. State vedendo la modalità frontale, in questo momento con la modalità ritratto. Vedete? Oh, eccomi qua. Vi faccio vedere anche alcuni controlli che sono piuttosto bizzarri che avete sul telefono. Sono controlli che riguardano addirittura lo sbiancamento, il controllo degli occhi, la correzione delle guance, per cui potete sembrare addirittura più magri. Queste sono alcune delle funzionalità che avete della fotocamera. Fotocamera con cui potete gestire poi il taglio, ad esempio, dell'immagine. 18-9, 16-9, 4 terzi oppure 1 a 1. Questo è uno dei tanti controlli che potete gestire. Vedete anche l'effetto beauty che può essere più o meno applicato al volto. E quando passate invece alla fotocamera principale, c'è tutto un mondo di comandi, dall'HDR ancora al taglio della ripresa fino ad arrivare al pulsante del timer e poi la scelta tra la fotocamera grandangolare e quella a 120 gradi. Vedete come cambia il tipo di ripresa che viene fatta oppure la ripresa con la fotocamera normale. C'è un dettaglio molto importante. Quando utilizzate il sensore principale da 12 megapixel avete un'apertura 1.8. Quando utilizzate il sensore da 120 gradi, quindi il sensore grandangolare, l'apertura che avete invece è un'apertura che diventa 2.2. Vi faccio vedere anche cosa succede quando c'è poca luce. Rilevato un ambiente con scarsa luminosità, vi viene chiesto di utilizzare il sensore principale. Quindi cambia l'utilizzo della fotocamera a seconda di come siate messi. Avete poi un controllo Pro, ve lo faccio vedere in questo modo per tutti i dettagli che potete controllare della fotocamera. Quindi un controllo molto avanzato del sensore. Sensore con apertura grandangolare anche per quello frontale, questo è un dettaglio importante perché potete scegliere di fare, vedete, il selfie panoramico. Quindi potete, ve lo mostro qui forse che è meglio, potete essenzialmente scegliere di muovere la fotocamera per scattare un selfie in modalità panoramica. Poi avete il ritocco fotografico in versione avanzata, oppure se volete c'è un'ulteriore possibilità che è quella del selfie master che vi permette di accedere a questa modalità di gestione della fotocamera in cui trovate anche quella della Zenmoji, che vedete in questo momento non viene ripreso il mio viso quindi rimane fuori fuoco, non viene gestito essenzialmente lo Zenmoji. Adesso io ho scattato uno screenshot, però con la modalità selfie master che adesso vi mostro subitaneamente, eccola qui, andiamo in modalità selfie master attiviamo lo Zenmoji, ecco adesso lo Zenmoji quando io sono di fronte alla fotocamera vedete se io sposto, ecco adesso riesco a farvi vedere un pelo meglio il funzionamento insomma di questi tre personaggi che sono inseriti al momento, poi vedremo quello che succederà successivamente nella modalità Zenmoji. Allora, l'intelligenza artificiale, ecco questo è venuto il momento di utilizzare il telefono con l'intelligenza artificiale, cerchiamo di capire essenzialmente che cosa succede con il telefono se io inquadro, spero di riuscire a farvelo vedere, se io inquadro questo ritratto nella parte alta della fotocamera cioè qui, adesso voi non lo vedete ma qui, essenzialmente appare un indicatore che mi dice che tipo di foto sto scattando vedete in questo momento, non so se la vedete, ci sono delle forchette e un cucchiaio che mi dicono essenzialmente che tipo di foto sto scattando, adesso è stato riconosciuto il cane, lo vedete lì a lato in questo caso vedremo se l'intelligenza artificiale riconoscerà un gatto io so che qualcuno di voi potrebbe essere portato a chiedersi, vabbè ma io che me ne faccio di questi dettagli ovviamente tutte le caratteristiche, l'esposizione, la velocità di scatto, insomma tutti quelli che sono i dettagli di controllo della fotocamera vengono adattati allo scatto che viene fatto in quel momento quindi questo succede con la fotocamera principale, quella da 12 megapixel che è a vostra disposizione per i vostri scatti, quindi 12 megapixel con apertura 1.8, 12 megapixel con apertura 2.2 a seconda che sia l'angolazione normale oppure il grandangolo da 120 gradi come detto anche la fotocamera anteriore, quella da 8 megapixel con apertura 2.0 in grado di fare questo genere di scatti c'è il riconoscimento facciale che si abbina al sensore delle impronte digitali, discretamente veloce c'è la carica intelligente per cui essenzialmente voi con il vostro telefono potete riuscire a gestire la carica del vostro telefono in modo che, eccola qui con la batteria, essenzialmente quando voi attaccate il telefono viene portato l'80% quando si avvicina il momento della vostra sveglia viene completata la carica ci vogliono alcuni giorni per entrare nella piena funzionalità di questa modalità la batteria da 3300 mAh mi sembra buona se vi devo dare un giudizio invece tornando indietro di un attimo sulla fotocamera vi dico che tutto sommato le immagini della fotocamera sono buone non è una fotocamera eccezionale, ve lo dico subito non è a livello del Galaxy S9 ma tenete conto anche che questo telefono costa 399 euro se lo acquistate con il trade-in, con lo scambio del vostro vecchio prodotto parliamo di un telefono che viene venduto ad un prezzo di 280 euro diamo un attimo un occhio un lato pulito con il cassettino per la sim parte superiore pulitissima questo lato con il volume rocker e con il pulsante di accensione audio con cassa sulla parte inferiore ma audio stereo adesso lo ascoltiamo attacco USB Type-C, attacco per le cuffie sulla parte posteriore invece questo colore cangiante molto particolare sia il colore chiaro che il colore scuro hanno questo effetto cangiante davvero molto particolare e poi vedete il doppio sensore fotografico posteriore e il sensore per le impronte digitali dicevamo dell'audio che adesso andiamo immediatamente ad ascoltare volume alto, quello senza dubbio è un volume molto alto diciamo che la qualità dell'audio non è esagerata sentite? l'audio esce sia qui che qui il volume è altissimo diciamo che non c'è una qualità esagerata delle frequenze basse però non è una cosa che mi meraviglia tantissimo mi piace molto invece vorrei farvelo vedere in questo modo vedrete sicuramente la luminosità della fotocamera della videocamera che riprende vedete come tutto il resto è diventato scuro perché in questo momento la luminosità di questo display è impressionante 500 nits di luminosità per questo display e guardate sono un buon livello ci sono dei telefoni che vanno oltre che arrivano anche oltre 600 ma comunque per questa fascia di prezzo è un ottimo livello abbiamo già detto 4 giga di ram 636 dunque il processore snapdragon abbinato 64 giga invece di memoria interna e insomma io devo dire un prodotto che se voi fate pace con il fatto che assomigli così tanto ad iphone 10 secondo me è un prodotto con un rapporto qualità prezzo veramente notevole non vi nascondo che nell'uso di questi giorni mi è piaciuto e non poco lo trovo un'ottima alternativa di mercato con un bel design ad un prezzo tutto sommato più che competitivo e a voi piace? grazie a tutti